buongiorno farrecchi buongiorno a te sempre più bello devo dire sempre un professionale questi occhiali ti danno quel tocco in più che non ce n'era bisogno però pensava anch'io infatti mi guardavo adesso nel video e dicevo madonna come sono professionale quanto siamo belli e quanto siamo professionali troppo dobbiamo tornare ad essere più cazzoni funzionavamo di più no no secondo me no secondo me un giusto equilibrio ci vuole un giusto equilibrio peraltro guarda io cosa sto leggendo sono a metà di questo libro qua la morale anarchica libro molto figo anche filosofo soprattutto filosofico secondo me adesso hai perso le primarie del pd ti ricicli verso l'anarchia in quanto sosia con gli occhiali di bonaccini perso le primarie del pd e quindi ora anarchia un altro guarda ti dico questa cosa in anteprima abbiamo ieri sai che c'è stata la manifestazione a roma no ci sarà poi per il 25 aprile lasciando perdere le cialtronate di laruti del presidente del senato la russa che dice che l'antifascismo non è nella costituzione italiana come se non fosse stata fatta da antifascisti però ieri a roma c'erano certo c'erano anche dei dei lerci insomma dei miei amici della redazione di lercio che sono riusciti a strappare una foto insieme a ellis line che pare ci segua insomma che sia nostro fan quindi abbiamo sancito questa alleanza anche se è sotto traccia cioè ti dico che c'è esiste una foto dei verci insieme a edish line quindi il giro è schierato col pd quindi col pd con la versione si a questo punto noi non risparmiamo le critiche a nessuno però con questa foto si è sancito sarebbe bella avere una foto anche insieme alla russa in realtà è sarebbe però non penso che se la faccia però la russa come dire ci penso magari uno va lì insomma non è detto che con una scusa magari non è detto che la russa capisca le battute vostre secondo me perché non partecipiamo alle stesse manifestazioni semplicemente evidentemente nella manifestazione antifascista in prima film tra l'altro c'è anche questo 25 aprile ha assegnato una nota molto brutta a mio avviso di un centro commerciale molto famoso basso in firenze che ha ha fatto ha lanciato uno slogan non ho capito se è solo un post un meme o un manifesto proprio che si un'affissione per le strade dove per dichiarare aperto il centro commerciale il giorno del 25 aprile scrive ora non ricordo le parole esatte ma una cosa tipo la vera liberazione è lo shopping questo questo marketing di merda fatto proprio al fatto veramente con i piedi cioè non so se volevano fare la battuta se hanno intenzione di creare la polemica di uno sciocco e siamo a livello della venere botticelli e mangia la pizza della santa anche insomma per l'altro non so quanti soldi è costata per valima lascia un pelle 8 9 milioni una cosa del genere tutta la campagna 8 9 milioni sì con mid journey lo fai molto meglio con mid journey adesso lo fai molto con l'intelligenza artificiale si fa roba molto meglio e vabbè non ci vuole molto a fare meglio senza anche non importa la grande tecnologia probabilmente se si chiede a un bambino a caso viene una cosa meglio sì no però è brutto anche questo di usare la liberazione per lo shopping insomma non penso che purtroppo il linguaggio politico oramai sia sceso talmente tanto che si è perso il senso di una festa così bella che dovrebbe essere abbracciata da tutti quanti per quello che è cioè la liberazione dal nazifascismo non sanno che inneggiano a un'era senza poi conoscerla perché poi di fatto ascolta non lo sanno davvero come è andato non hanno mai letto qualcosa di di specifico di credibile quindi credono chissà cosa quindi è tra l'altro basterebbe basterebbe ascoltare e sentire racconti dei nonni in realtà è che per fortuna io ho ancora una nonna viva è una memoria storica importante ha più di 90 anni che però quel periodo l'ha vissuto quindi è importante anche ma vedi per esempio però dipende mia nonna buonanima nata nel 1903 è venuta a mancare nel 95 se non sbaglio lei sosteneva che con mussolini era una di quelle famiglie contadine che dicevano con mussolini si stava bene però anzi dicevano mussolini si stava bene finché non entrò in guerra ma questo era la lettura che avevano delle famiglie contadine senza mezzi di informazioni senza televisioni senza certo ma anche mia nonna non è una che critica mussolini perché lei ha vissuto il periodo diciamo florido della rinascita italiana però quando ti racconta la guerra e la miseria della guerra e di quello che fu l'occupazione nazista e di come vivevano nascosti nonostante cioè vivere nascosti in casa propria che è un po quello che stanno facendo gli ucraini in questo momento e anche per questo secondo me questa questa festa dovrebbe assumere proprio perché è un governo filo ucraino dovrebbe assumere anche dei contorni diversi dovrebbero capirlo ancora meglio che cosa significa e purtroppo però si prende sempre dal lato sbagliato incredibile ragazzi come in politica però quello anche mia nonna uno dei suoi figli fu preso alle tedesche addirittura quindi nel senso è poi liberato quindi figurati no e cantava bella ciao con orgoglio mia nonna però ecco c'è una parte del fascismo che da famiglia montadina vedeva semplicemente del lavoro fiorire che non era dovuto a mussolini c'era mussolini e quindi ignorantemente pensavano pensavano quello è chiaro no non avevano la possibilità di un confronto o non avevano chi accendeva magari delle domande in testa le domande si facevano da soli se si davano le risposte di quello che potevano vedere intorno a loro e quindi è chiaro che la risposta diventava necessariamente populista no è chiaro però poi l'ultimamente la parte dopo infatti dice sbagliò ad entrare in guerra non sa che le leggi razziali tutto quello che c'è stato certo è chiaro no perché si sta parlando di una famiglia montadina che stava a castelnuovo una frazione di prato piena di campagne e quindi cioè sì poi anche fosse vero non è che potevano avevano i mezzi per informarsi non li avevano non c'era televisione giornali non li potevano comprare insomma non era una cosa sta parlando di famiglie povere lavoravano sotto il conte cellesi cioè ma anche fosse vero e poi non è vero perché anche ha fatto anche cose buone lasciamo perdere però anche fossero non è che un errore da poco fare le leggi razziali entrare in guerra cioè non è che è una piccolezza è un errore di distrazione insomma comunque quello che stiamo dicendo ora in realtà coincide anche un po' perché sembra scollegata in realtà è molto collegato anche con quella che è la puntata che abbiamo fatto martedì scorso che è la storia di Pietro Pacciani in realtà noi siamo arrivati ai primi anni 90 cioè quando Pacciani entra nelle indagini nelle indagini della SAM però abbiamo fatto anche lo avevamo già fatto un po' per il delitto del 51 e abbiamo parlato anche di ciò che fece Pacciani nel periodo a grandi linee perché abbiamo un'ora ovviamente però abbiamo parlato del Pacciani tra l'uscita di galera e poi fino ad arrivare ai giorni insomma agli anni 90 quando fu indagato lui era in carcere per lo stupro delle figlie fino ai primi anni 90 quando poi arriverà l'avviso di garanzia che è indagato per il delitto del mostro di Firenze dicevamo in puntata e poi la biografia di Pacciani è di difficile ricostruzione perché le fonti sono sostanzialmente tre cioè le voci di popolo i dati oggettivi che noi abbiamo riguardo a Pacciani dove ha lavorato quando ci ha lavorato eccetera perché ci sono dei documenti e poi la sua biografia cioè quella che lui scrive sui memoriali che lui scrive dal carcere dove ad esempio racconta di una storia della resistenza in cui lui ha lavorato prima per i tedeschi poi per salvarsi la pelle dalle bombe si è fatto partigiano e poi quando arrivò nei pressi di Firenze poco tempo dopo disertò anche dai partigiani per tornarsene a Vicchio questo insomma quindi diciamo il Pacciani eroico che salvò Dante Ricci che magari lo ha fatto per carità cioè non voglio dire che siano bugie però lui nei memoriali ce la racconta in modo un po' diverso e quindi parlare della storia di Pacciani è molto complicato perché poi arrivi di costruire la storia di un uomo soprattutto in quegli anni lì dove di tracce non ne lasci se ci pensi è difficile ora non so a te che idea ti sei fatto della vita del Pacciani prima che entrasse diciamo nelle indagini del mostro di Firenze e se per te era una figura diciamo così perché poi arriveremo al discorso 9 settembre 19 settembre cioè se era già indagato ancora prima della lettera anonima che poi lo metterà al centro delle indagini successivamente cioè se secondo te era un personaggio forse anche grazie alla Tassinaia sospettabile perché era nella lista della SAM oppure comunque mi sei fatto un'idea di una persona che o ci entra marginalmente nella vicenda oppure non c'entra proprio non so per quello che abbiamo detto finora ovviamente poi parleremo di schizze in bruno di portasapore ma li abbiamo solo accennati allora il Pacciani che entra nella lista della SAM domanda non facile domanda non facile no ma Pacciani che entra nella lista della SAM mi sembra piuttosto naturale già ha compiuto un omicidio quindi nel 51 già ha compiuto un omicidio è un personaggio e poi abbiamo visto abbiamo conosciuto al di là del mostro di Firenze è un personaggio falso bugiardo personaggio e comunque mentre giurava con tanto di la famosissima poesia e tutto il resto personi innocente come Cristo su una croce lui comunque aveva violentato le figlie quindi ecco nel senso sulla falsità di Pacciani credo ci sia poco da disquisire che quindi entri nelle indagini nella SAM date le forze dell'ordine avranno conosciuto il personaggio comunque anche le persone della zona magari descrivevano Pacciani non come un tenero agnellino mi pare piuttosto evidente che tu non sai chi è sai una zona vai a prendere chiaramente un occhio su quelli che hanno già avuto un processo o un arresto per omicidio specialmente e anche per l'omicidio era verso una ragazza con tanto di violenza sessuale con il cadastro una roba piuttosto pesante insomma che c'è che entri nelle indagini mi sembra il minimo proprio proprio il minimo quindi che idea mi sono fatta su Pacciani penso che è normale che sia entrato nelle indagini poi i dubbi che ho sul Pacciani mostro di Firenze sono ci sono ho tanti dubbi sul Pacciani mostro di Firenze che fosse io mi ricordo da ragazzetto quando c'erano i processi ero un ragazzino e mio zio diceva vedi Giacomo secondo me è lui non ci entra niente o non è non è stato lui ma c'è dentro fino al collo ecco io ho sempre pensato che Pacciani qualcosa sapesse perché se non direttamente indirettamente senz'altro abbiamo detto che il mostro con estrema probabilità faceva parte dell'ambiente dei Guardoni e Pacciani faceva parte dell'ambiente dei Guardoni abbiamo detto che il mostro non ha un'identità politica forte e se ce l'ha ce l'ha verso destra perché comunque anche alle varie feste ha ucciso durante le feste partigiane Pacciani se vai a leggere su Wikipedia almeno tempo fa diceva è un ex partigiano italiano però poi non si è mai avuto un confronto non si è mai avuto una dimostrazione che fosse iscritto in qualche lista di partigiane sembra più uno che gli si è trovato per sbaglio dalla parte giusta se si trovava la parte sbagliata ecco era fascista ma lo racconta lui nei memoriali questo in realtà cioè che comunque andò quei partigiani per comodo insomma perché non è che gli interessassero conveniva conveniva lì insomma non è che tant'è un molto amico del Vanni che era tutt'altro del partigiano no? infatti parlando appunto di e quindi che entri nelle indagini secondo me è una delle cose più naturali del mondo cioè chiunque sarebbe andato a bussare a quella porta lì forse anche indipendentemente dalla lettera anonima la lettera anonima può essere stato può essere stato un un plus o addirittura una scusa usata dagli inquirenti per non per non per non dire affidati al giro di voto di paese insomma cioè perché noi abbiamo fatto sentire anche proprio in trasmissione è recuperabile su youtube no? il il punto del processo in cui si arrabbia perché sostiene di aver avuto due perquisizioni una è il 9 e una è il 19 ecco a me non sembra incredibile che uno come Pacciani fosse seguito già da prima dalla polizia che sappiamo o ci può stare che anche al referto una delle due la prima delle due perquisizioni non sia stata segnata anche perché magari è stata una perquisizione leve ma magari è stato sai non è come adesso che tutto è certificato e dichiarato e documentato stiamo stavamo vivendo un periodo molto diverso ricordiamoci non c'era coordinamento tra forze dell'ordine al loro interno ricordiamoci che non eravamo pronti come paese al serial killer quindi che siano state saltate le passaggi ci può stare benissimo quindi magari non è al referto la prima perquisizione e lui dice due ci sta benissimo che siano siano state due potrebbe ecco questa cosa delle perquisizioni dell'85 poi peserà tantissimo lo diciamo in trasmissione nel nel fatto che via via Perugini si fa sempre di più l'idea Perugini morirà con la certezza che Pacciani fosse il mostro di Firenze morto poco tempo fa Perugini tra l'altro è sempre avuto questa convinzione anche perché la perquisizione a Pacciani la prima comunque se il 9 o il 19 la fanno nell'85 poi cessano i delitti questa cosa peserà tanto oltre a Natassinaia oltre a quello che chi troveranno in casa che comunque poi vedremo che non è risolutivo diciamo quindi non è attribuibile niente di quello che gli viene trovato è attribuibile con certezza né al mostro né alle vittime e quindi è chiaro che sono tutte cose indiziarie però questa cosa peserà tantissimo quindi per questo dicevo Perugini lo dirà proprio in aula cioè durante l'interrogatorio in aula dirà la prima cosa che poi vedremo il super computer eccetera però la prima cosa che gli saltò all'occhio a lui fu il fatto che comunque dopo la perquisizione dell'85 i delitti cessarono e quindi gli saltò particolarmente all'occhio la figura di Pacciani e non sono tutti quelli che poi noi non conosciamo ma che della lista Sam furono perquisiti poi nell'85 a seguito del delitto vi si vede proprio polizia e carabinieri che si muovono su due linee diverse perché nel frattempo i carabinieri sono sempre su salvatori vinci quindi tutta una cosa che avviene in parallelo come dicevi te proprio le forze dell'ordine che non sono coordinate in questo senso e ti chiedo ti chiedo una cosa andando forse anche avanti perché poi il processo lo abbiamo affrontato così sommariamente poi magari lo faremo meglio nella prossima puntata che non ci sarà questo martedì perché appunto è festa della liberazione sarà martedì prossimo però ti chiedo quanto ha pesato secondo te nella colpevolezza di Pacciani poi vedremo che ci sarà la testimonianza che lo colloca a scoperti una testimonianza molto dibattuta tra l'altro però quanto è pesato il fatto che fosse così falso Pacciani perché è ovvio che lui non si ritiene colpevole tenta di giustificare anche l'omicidio del 51 e lo stupro delle figlie quindi diciamo che poi agli occhi del giudice si squalifica completamente quindi quanto ha pesato secondo te questa falsità di Pacciani poi è pesato il giudizio nel primo processo lui viene 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 dichiarato colpevole senza una prova certa perché poi la prova certa certa non c'è mai stata anche il famoso quadro famoso quadro che poi era un sogno di fata scienza e poi era un altro ma poi ci fu proprio la testimonianza dell'autore vero che disse no guardate quel quadro è mio e quindi ecco che insomma diciamo senza una prova certa cos'altro può aver influito se non la falsità di Pacciani cioè questo dice di essere innocente ha mettito sulla croce ma proprio fuori che ha stuprato le figlie dice che non c'entra niente ma c'ha il blocchetto e il portasapone dei ragazzi tedeschi uccisi con tanto di testimonianza ricordo della sorella di uno dei due che diceva sì quella roba apparteneva a mio fratello sì poi vedremo che a parte della testimonianza in realtà non c'è niente quello lo schizzo in brun nel campo ovviamente se ci fosse sembrava un blocchetto da disegno che veniva venduto soltanto in Germania dichiarato dall'azienda produttrice però poi anche lì non c'è stata questa certezza perché qualcuno sostiene che poteva essere veniva venduto anche in Italia anche perché la casa produttrice lo dà dei distributori i distributori magari lo distribuiscono all'estero che ne sai cioè quindi non non è attribuibile con sicurezza e quindi non è attribuibile con sicurezza è chiaro ripeto oggi una casa produttrice sa benissimo in quale paese arriva perché conosce i meccanismi dei loro distributori ma prima non era così prima non era così se la casa tedesca l'ha venduto in Austria e dall'Austria un giorno un rappresentante ha preso e venuto in Italia e l'ha venduto a 5 dicole a Firenze non è detto che lo sappiano non è la Apple che traccia tutto non è la Bosch che ha tutti i suoi distributori quelli per i ricambi auto quelli per le lavatrici quelli per i trapani utensili vari a tutti i suoi distributori sa dove sono localizzati e sa che area commerciale coprono fatto appunto per non darsi noia tra distributori oggi nel 2023 nel 2000 nella fine anni 90 ma non già anzi in realtà già nella fine anni 90 non era proprio così non comunque al tempo degli omicidi nel fine anni 70 prima anni 80 assolutamente non era così quindi i tedeschi se non sbaglio sono stati uccisi nell'83 giusto? sì ok sì non era così sì e poi chiaramente se ce l'avevano i tedeschi non è detto che l'abbiano comprato nell'83 quindi magari stavo parlando anche di un periodo precedente addirittura ci sono cose appuntate in quello Schizzenbrunen di Pacciani che risalgano all'81 quindi non vai a sapere quella è più una prova dell'innocenza e poi comunque come fu detto in un documentario il blocchetto Schizzenbrunen fosse stato dei ragazzi tedeschi in casa di Pacciani comunque non colloca Pacciani sulla 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 scena del crimine potrebbero averglielo venduto potrebbe averlo trovato in strada nell'epoca senza DNA bisognava collocare Pacciani i locologi sulla scena con tracce DNA sulla scena del delitto di giovani che però non ci sono chiaro infatti sono tutte prove comunque un guardone va a guardare trova roba vede un cosa se lo prende perché gli serve certo sì sì quindi poi dovrebbe averlo preso in una discarica per l'esattezza poi insomma qui stiamo già già andando avanti però tra l'altro non solo le bugie di Pacciani ma poi vedremo che influenzeranno anche tanto la giuria le bugie ad esempio del Vanni la famosa lettera che si scambiano Vanni e Pacciani che non si è mai capito esattamente cosa ci fosse scritto e poi anche la stessa Miranda Bugli che cercherà e farà di tutto per non andare a processo tanto che Canessa dirà che si era data più volte malata addirittura per non essere chiamata poi arriverà a processo e negherà di aver rivisto Pacciani se non una volta smentendo anche le figlie dello stesso Pacciani che non avevano grossi motivi per mentire ci sono prove poi di Pacciani che cerca di contattare la bugie dal carcere dopo che la bugie si disposa è piuttosto importante perché la bugie è vicina di casa dei mele vicina di casa insomma abita vicino ai mele sia prima quando stava all'onda mi sembra sia dopo quando si sposteranno a Signa quindi diciamo si cerca di collegare Pacciani a Signa in quel modo lì anche se poi noi sappiamo che Pacciani per Signa l'era scagenato perché non ci sono prove non è che se tu conosci Miranda Bugli che sta lì poi per forza anche perché lì poi il delitto deve avere tutta un'altra spiegazione però ecco la figura di Pacciani poi diventa emblematica perché secondo me non so che ne pensi fa venire fuori tutta una particolarità dell'entroterra Fiorentino che poi diventa famoso in quegli anni lì perché sono gli anni poi di Pieraccioni che è scelto di un certo tipo di comicità che secondo me è che grazie a Pacciani il ciclone anche il film di Benigni il mostro dove lui interpreta un personaggio che non c'entra niente ma una serie di casisti che fanno sì che si possa pensare che lui sia un maniaco sessuale che poi uccida e quindi ecco ecco perché l'ha chiamato il mostro per l'appunto l'ha chiamato il mostro nel senso senza altro nella cultura generale ha influito la figura di Pacciani e tutta la storia ha influito il mostro di Firenze e ha influito tantissimo nella cultura generale basta pensare che i ragazzi si appartavano perché era fuori costume fare l'amore in casa con i genitori in casa tant'è che questo aprì una questione sociale e disse dove tanti dicevano ma usciamo di casa andiamo al cinema andiamo a cena fuori lasciamo la casa libera ai ragazzi così almeno stanno in casa se devono andare a far l'amore fuori con rischi enormi che poi c'era il mostro di Firenze ma i rischi c'erano comunque perché i guardoni ci sono c'erano e non sai chi trovi insomma può essere comunque pericoloso a parte oltre ai mostro di Firenze ovviamente era in quel periodo estremamente pericoloso però certo una consapevolezza in più senti a parte Pacciani e poi insomma rimaneremo su Pacciani perché poi anzi prossima volta parleremo anche un po' di Tangentopoli perché poi tornerà Babbo Bonechi magari quindi parleremo anche un po' non solo del mostro ma anche di tutto quello che avviene in Italia in quel periodo lì però ti volevo dire una cosa c'è sì sì poi in Iraq la prima guerra nel Golfo quindi però ti volevo vedere una cosa perché poi non ne abbiamo parlato magari lo approfondiamo ora perché col podcast siamo andati avanti con Pacciani in merito a quanto perché poi non l'abbiamo discusso noi sostanzialmente ma quanto ci hanno detto Luca e Giulia cioè riguardo al mostro poliziotto che è una teoria in realtà che sposano in molti se te vai a vedere i commenti che ci hanno fatto sia al video quello con Giulia sia in video precedenti qualcuno ce lo dice sul video di Vicchio qualcuno ce lo dice sul video di Scopeti altri ne parlano magari quando facemmo la diretta con Luca eccetera sono diverse le persone che pensano che ci sia qualcuno delle forze dell'ordine che può essere legato al mostro di Firenze alla figura del mostro di Firenze con Giulia abbiamo approfondito questa cosa che è la prima tesi sposata dal primo mostrologo il primo mostrologo lo sappiamo è Nino Filastò l'avvocato di Vagna a processo dei compagni di Merendi però ti volevo chiedere una tua idea perché poi noi non ne abbiamo parlato non ne abbiamo approfondito la cosa abbiamo giustamente dato spazio agli ospiti e siccome è una cosa di battuta anche nei commenti ai nostri video magari è interessante approfondirlo anche dal nostro punto di vista non so a te che che idea ti sei fatto ecco in generale di quello di cui abbiamo parlato poi nella puntata precedente sia nel podcast che qui su YouTube ma allora fondamentalmente farsi un'idea è un po' come diciamo che c'era il dibattito tra due due idee diverse di caso quella del mostro in difesa e quella dei sardi allora dei vinci via più che dei sardi dei vinci probabilmente specificatamente dei vinci me la fomano l'idea perché comunque sia Giulia che Luca hanno delle argomentazioni valide sono due di quelle idee che non mi sento di escludere tendo più a quella dei sardi nonché a quella del mostro in divisa quello del mostro in divisa mi sembra insomma alla fine l'unica cosa che posso avvicinarlo è il ritrovamento se non ero della patente dello Stefanacci o del libretto di circolazione fuori dal insomma in terra però questo sì può essere un caso ma magari l'avevano fermato a un posto di blocco prima che c'è diciamo che è l'unica è l'unica cosa che te lo fa pensare magari durante che è una cosa da tenere sempre a mente quando ci sono questi casi poi i poliziotti i carabinieri che arrivano sulla scena del crimine ciacciano cioè non dovrebbero però ciacciano ma non solo rivolgiamoci ad un altro per l'identificazione quindi la situazione è stata perché non preparati che alcuni fotografi fotografi hanno dichiarato apertamente che a volte arrivavano prima loro delle forze dell'ordine e quindi andavano a fotografare a pesticciare che ne sai se qualcuno per sapere il nome del ragazzo ha tirato fuori un documento sì infatti è quello il problema non l'avrebbe mai detto secondo me secondo me l'idea del serial killer in divisa è un'idea come dire quasi cinematografia cioè dopo il maggior domo che è sempre l'assassino il fatto di una di una forza dell'ordine che può entrare all'interno di diritti non è una cosa nuova come idea non è nemmeno impossibile che avvenga perché ci sono dei serial killer americani anche famosi poi si è scoperto che erano poliziotti uno in Golden State addirittura che collaborò alle indagini e scrisse anche un libro cioè va bene ci sono delle robe incredibili ce n'è di ogni colore di tutto e di più probabilmente il Colonial Parkway che è un omicida molto simile dal mostro di Firenze che ha ammazzato coppiette sempre all'interno di una zona molto specifica di un parco lì il principale sospettato è una guardia forestale della zona che però interagiva anche la domanda che fece giura cioè questo personaggio interagiva con le vittime le faceva scendere di macchina alcune sono state trovate incise fuori dalla macchina interagì anche con un camionista per cui è ovvio che non puoi sparare all'interno di un camion no cioè come fai ti arrampichi quindi per farlo scendere per convincerlo a scendere sì basta la pistola o forse lì c'era qualcosa in più il fatto che dei ragazzi fossero addirittura alcuni corpi non sono stati proprio trovati quindi è possibile lì che effettivamente si tratti di una guardia forestale del luogo che peraltro poi è stata individuata è stata interrogata però non ci sono prove a carico quindi il colonel Parkway rimane non scoperto c'è un bellissimo documentario su Amazon che si chiama non volevo dire troppo velocemente però parla proprio del colonel Parkway che purtroppo però non è stato tradotto in italiano cioè si trova soltanto su Amazon in America è stato distribuito solo lì sarebbe bello che lo facessero anche in Italia perché è molto vicino forse è il caso più simile al mostro perché avviene negli stessi anni in piazzone molto simili a quelle del mostro vicino a dei fiumi quindi è una cosa molto vicina però lì effettivamente proprio per la dinamica dei delitti ti dà la sensazione che essere un poliziotto ti dà quel vantaggio in più nel delitto del mostro in realtà gli assalti sono fatti diciamo in un momento in cui i ragazzi non non prestano attenzione per cui addirittura presentarsi come poliziotto gli avrebbe diciamo destati dal torpore diciamo così questa luce che mi batte in faccia gli avrebbe destati dal torpore forse gli avrebbe addirittura perché sono bello è questo il sole ma c'è bello addirittura gli avrebbe insomma non penso che avrebbe dato tutto questo vantaggio no? ma infatti è una teoria che non mi sento di escludere perché non ho la competenza di Giulia nello specifico e di chi la sostiene o di chi la stonne e quindi però così da ignorante tendo più alla teoria dei sardi la teoria sardista non che quella del mostro in divisa ma ce ne sono anche altre di teorie sono divento sceco ma ce ne sono anche altre oltre a quelle due ce ne sono anche altre di teorie valide io come sapete parto dalle teorie che non riesco a sposarne una concertina parto dalle teorie che non mi convincono che però sono quelle che non convincono quasi nessuno le più strampalate mi convince poco anche quella del rosso del Mugello chi è sto rosso chi è così uno completamente fuori dalle indagini un parente che ha detto un parente della della vittima dell'omicidio della Tassinaia per vendicarsi così per quello che prova a inchiodare Pacciani perché senz'altro Pacciani ha avuto cioè questa quasi certezza che hanno voluto inchiodarlo per con il discorso della pallottola nel giardino peraltro ecco anche lì si può prendere un dibattito chi ha voluto inchiodarlo il vero mostro e allora Pacciani lo conosce magari non sa chi è il mostro ma lo conosce però c'è anche vero che se qualcuno vuole far carriera e trova un assassino che poi nessuno si sono a difendere perché insomma siamo ai primi anni 90 il mostro sono più di 5 anni e non lo uccide quindi probabilmente non lo ucciderà mai più chissà perché magari è morto magari è stato in galera per altre cose io devo far carriera trovo un capo espiatorio che nessuno si sogna difendere perché comunque è un mostro se non il mostro lo inchiodo e ho risolto e fa carriera però poi lo vedremo anche con la staguita molla insomma ci sono dei sospetti anzi più di un sospetto ci sono delle cose strane attorno a Pacciani penso anche che nell'idea del proiettile in sé lo stesso Perugini dirà processo che quando trovò il proiettile quasi bestemmiò perché lui avrebbe preferito trovare il bossolo per la sicurezza che quel proiettile fosse un serie H c'è lì c'era il bossolo scadellato c'era il proiettile scadellato perché sembra quindi non è stato sparato per cui non c'è la sicurezza che fosse l'arma del mostro e anche lui diceva che era una cosa che faceva più casino che chiariva le idee anche poi per i luoghi in cui è stata trovata è molto particolare quindi penso anche che se si voleva fare un defistaggio e colpevolizzare Pacciani forse si sarebbe trovato un modo più convincente non lo so perché poi quel proiettile fin da subito non ha convinto nessuno cioè il fatto che fosse stato messo lì è una cosa che viene detta da anni cioè che Pacciani fosse un capo espiatorio e un povero contadino che non c'entrava niente è tutta la tesi della difesa quindi penso anche che forse l'avrebbero cioè se dovevano farla su di ce l'avrebbero fatta meglio quindi magari quello è un proiettile che lì non c'entra niente semplicemente chi lo sa perché poi dice che è stato mano messo però a noi sta perizia non è uscita quindi sappiamo le notizie della nazione però effettivamente di questo proiettile poi dati certi non ce ne sono cioè non è uscita la perizia nessuno l'ha letta quindi sappiamo quello che c'è scritto sul giornale devo chiudere parrete perché manca un minuto infatti stavo guardando l'orario noi siamo in fondo infatti siamo in fondo siamo in fondo siamo in fondo ci siamo dilungati abbiamo parlato di Pacciani quindi spendo l'ultimo minuto per dire di iscriversi al canale che ci fa comodo arriviamo almeno a mille iscritti entro la fine dell'anno impossibile proviamoci noi proviamo proviamoci ascoltate è bello se ci sentite su youtube ma ascoltate il podcast che mettiamo in descrizione che poi la sciccia vera e niente io vi saluto te Parretti non so se vuoi dire altro hai detto tutto te quindi benissimo perfetto ti lascio al libro anarchico viva l'archia dopo la morale anarchica dai ci sentiamo presto e ci vediamo ci sentiamo martedì in radio no martedì no martedì prossimo martedì prossimo martedì col martedì dopo il primo martedì di maggio ciao 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 ciao